La squadra non ha sicuramente risposto come è solita fare, la partita purtroppo è stata confusionaria, noi abbiamo sofferto la loro fisicità e capita poi di doversi fare un gol da soli, l'altro è un'azione un po' confusa, pazienza insomma, ripartiamo da qua, cercando nelle prossime partite non ripetere gli stessi errori, insomma tutto sommato poi nonostante tutto abbiamo avuto 4-5 palle e gol, credo che alla fine non sia sbagliato dire che è giusto aver perso questa partita perché tutto sommato non abbiamo fatto quello che siamo soli di fare.